ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco mesoft a cosa serve mesoft a un parafarmaco appartenente alla categoria degli compresse non adesive cotoni garze e tamponi e commercializzato in italia dall'azienda monique elf car srl informazioni commerciali titolare monique elf car srl concessionario monique elf car srl categoria di appartenenza compresse non adesive cotoni garze e tamponi confezioni mesoft compressa non sterile in tnt 10 x 10 cm 200 pz mesoft compressa non sterile in tnt t10 x 20 cm 200 pz mesoft compressa non sterile in tnt 5 x 5 cm 300 pz mesoft compressa non sterile in tnt 7,5 x 7,5 cm 300 pz mesoft compressa sterile in tnt 10 x 10 cm 150 pz mesoft compressa sterile in tnt tnt 10 x 20 cm 120 pz mesoft compressa sterile in tnt 5 x 5 cm 150 pz mesoft compressa sterile in tnt 7,5 x 7,5 cm 150 pz mesoft compressa sterile tracheale in tnt 10 x 10 cm 130 pz mesoft compressa tnt sterile 7,5 x 7,5 cm busta 150 pz mesoft tampone non sterile in tnt miss large 100 pz mesoft tampone non sterile in tnt miss medium 100 pz mesoft tampone non sterile in tnt miss small 100 pz mesoft tampone sterile in tnt miss large 70 pz mesoft tampone sterile in tnt miss medium 100 pz mesoft tampone sterile in tnt miss small 100 pz fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, parafarmaco esaminato.